Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di EastGD Oggi vi darò un annuncio Questa settimana, giovedì alle 21 Ci sarà una diretta all'interno del gruppo Facebook Che riguarderà appunto l'Aravel E la scrittura in particolare di un'applicazione Per l'autenticazione con i JSON Web Token Per iscriverti all'interno di questa diretta Ti basta cliccare il link in basso Per iscriverti all'interno del gruppo E poi troverai un post che sta fissato in alto All'interno del post c'è il logo appunto della diretta E ci sarà un tastino in basso a destra con l'imposta pro memoria Cliccando su imposta la sua pro memoria Avrai all'interno del tuo calendar appunto Il pro memoria per non dimenticarti di questa diretta Cosa parleremo all'interno della diretta? All'interno della diretta come ti ho detto Parleremo di l'Aravel e della costruzione di un'applicazione Con chiamate API appunto per l'autenticazione dell'utente Quindi utilizzeremo la tecnologia JSON Web Token Quindi IJVT E costruiremo questa applicazione Non preoccuparti se sei nuovo all'interno di questo mondo Io spiegherò tutto con molta molta calma E anche se non sei molto esperto Ti consiglio comunque di guardarla Perché questa è una cosa che ti servirà tantissimo in futuro Costruiremo tutto il progetto in maniera molto professionale Ti farò vedere tutti gli strumenti che utilizzo Per configurare un'applicazione ex novo E magari a fine poi diretta Ti trovo anche il codice sorgente Per fare le tue prove Ovviamente poi ci sarà una successiva live Rispetto a questa Che riguarderà poi la parte front end Quindi andremo a agganciare tutto questo servizio Che abbiamo costruito appunto Questi servizi di autenticazione del nostro utente E la andremo a collegare ad un'applicazione front end In particolare costruiremo un'applicazione Poi con AXGS e Vue.js Per collegare il tutto Proprio perché ho visto che Nelle varie discussioni all'interno della chat All'interno del gruppo Eppure attraverso le mail che mi scrivete Ci sono molti problemi per quanto riguarda appunto La parte di autenticazione Quindi molte volte ci sono delle difficoltà da affrontare Quindi noi cercheremo di fare tutto il flusso Quindi tutto lo stack Partendo dal back end in questa diretta E poi in un'altra andremo a fare il front end Quindi ti ripeto Iscriviti all'interno del gruppo Trovando il link in basso E poi metti in posta la propria memoria Quando sarai entrato all'interno del gruppo Per ricordarti che giovedì alle 21 Appunto ci sarà questa diretta Ci vediamo in settimana Che usciranno tantissimi video sul canale YouTube Ho registrato tantissimi video sabato Quindi in questo periodo ci saranno Molti molti video interessanti E quindi ti invito a stare in allerta Ciao da Leandro E ci vediamo nei prossimi video